Musica 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 Grazie a tutti. Non so, no, non credo. Ma come? Ancora? Che si deve fare dunque? Aiuto. Alice, vieni un attimo, amore, scusatevi. Vieni, Alice. Quindi potremo procedere. Potete andare. Non abbiamo altra scelta. Non possiamo permetterci che tutti gli astri siano favorevoli. È una situazione difficile. Credo di comprendere la situazione.